Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Camion tampona un mezzo dell'Anas in superstrada, ferito un operatore Sono proseguite anche oggi le proteste nel centro storico di Fanno per l'interruzione dell'energia elettrica in un giorno di mercato Cresce l'attesa per il derby di calcio tra il Fanno e la Vis Pesaro Distribuiti i primi 500 biglietti, si prevede il tutto esaurito Buonasera cari telespettatori di Occhio alla Notizia Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Un operatore dell'Anas è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale sulla superstrada E78 all'altezza dello svinco di Lucrezia di Cartoceto E' accaduto poco dopo le 11 quando un mezzo dell'Anas è stato tamponato da un camion mentre stava segnalando un cantiere mobile Sul posto una pattuglia della polizia stradale di Urbino, i vigili del fuoco di Fanno e il 118 che ha trasportato l'operatore al Santa Croce di Fanno per accertamenti Il traffico ha subito rallentamenti e la corsia di sorpasso in direzione di Fanno è stata chiusa per eseguire i rilievi di legge e rimuovere i veicoli dalla careggiata E non ce l'ha fatta purtroppo Livia Cardinali di 56 anni sposata con due figli travolta sulle strisce pedonali in via Ponchielli da una Renault guidata da un 93enne Dopo una lunga agonia la maestra della scuola elementare Don Milani è deceduta questa mattina nel reparto di rianimazione dove era stata ricoverata da sabato scorso E lo avete sentito nei titoli continuo la protesta dei commercianti del centro di Fanno a seguito dell'annunciata interruzione di energie elettriche da parte dell'Enel in un giorno di mercato Vediamo il servizio realizzato da Simona Zonghetti Gran parte del centro storico di Fanno domani resterà senza energia elettrica dalle ore 8.30 alle 14.30 Ma i commercianti non ci stanno In un periodo di crisi come questo dicono il mercoledì è un ottimo giorno per fare affari e continua quindi la protesta degli esercenti per la decisione presa dall'Enel annunciata 48 ore prima di staccare la corrente in un giorno di mercato A noi ci crea tanti problemi perché un giorno come il mercoledì che abbiamo più gente voglio dire con questa crisi che c'è adesso c'è il mercoledì che ci levi la luce e ci tagli le gambe perché voglio dire è un giorno dove c'è più gente c'è più movimento Meglio magari un giorno come lunedì che molti esercenti sono chiusi I negozi sono chiusi o il giovedì mattina che magari c'è meno movimento cioè è diversa la cosa ma non mercoledì o un sabato perché mercoledì è giorno di mercato non va bene c'è assolutamente c'è la giornata di lavoro dopo chi ce la paga di domani cioè se noi ci levo la luce qui dobbiamo chiudere perché come fa è tutto corrente è un danno in gente perché avvisato così è l'ultimo minuto e non se ne ha potuto neanche tanto preparare in più è una giornata come il mercoledì è una giornata di mercato che comunque un po' di gente gira è un bel disagio è una cosa che secondo me si poteva evitare benissimo anche prendere un giorno un lunedì o un giovedì o un venerdì invece così avvisati l'ultimo minuto con un cartello attaccato alla porta non è che sia proprio il massimo è un avviso da parte di Enel distribuzione che ieri mattina è stato attaccato in diversi vi del centro storico di Fano si tratta di un foglio il nostro servizio e la vostra collaborazione per migliorare e correre l'energia di tutti però in realtà questa corrente elettrica viene interrotta in un giorno di mercato e quindi provoca danni ingenti a molti esercenti del centro storico questo foglio è stato attaccato con dei pezzi di scotch nelle insegne nelle grondaie nei muri ecco quindi molti ne sono venuti a conoscenza oggi perché ieri è stata la giornata di chiusura per molti locali la bilancia hanno trovato una quelle vecchie stampo con l'ago dopo vabbè il frigorifero bene o male il pezzi si mantiene dentro per quelle 6 o 7 ore e la luce facciamo senza luce e qui praticamente hanno messo dei fogli attaccato all'albero però non è che è passato un vigile qualcuno cioè senza sì perché se ci avvisavano un po' prima ci si organizzava un po' meglio quando avete saputo che l'Enel avrebbe staccato la corrente elettrica? questa mattina quando siamo arrivati in pescheria c'erano i cartelli e abbiamo saputo che non c'è la corrente domani dalle 8 e mezza fino alle 2 e mezza come vi siete organizzati? adesso dobbiamo cercare delle bilance con la batteria dobbiamo trovarle se ce le danno per riuscire a pesare perlomeno a vendere il pesce dopo non c'è la luce i frighi non vanno il congelatore non va 6-6 ore non succede niente però succede che non c'è la corrente per pesare il pesce poi di mercoledì di mercoledì che c'è il mercato il giorno che si lavora più di tutti insieme al sabato c'era il lunedì c'era il martedì c'era il giovedì poi almeno avviseci 4-5 giorni prima andiamo da quelli delle bilance invece oggi pomeriggio non sono tutti a disposizione può darsi che non troviamo neanche le bilance vendiamo a voce alcuni esercenti hanno provato sin da ieri a contattare l'Enel Distribuzione al numero indicato nell'avviso ma senza ottenere risposta o senza ricevere informazioni precise anche la nostra redazione oggi ha provato a contattarli e dopo diversi tentativi sono riusciti a comunicare con un operatore della zona il quale ci ha confermato l'interruzione dell'energia elettrica questa è stata la risposta cioè non è che cambia il giorno di mercato la vigilia di Natale o cioè a noi richiede ci sono delle persone che programmano questi interventi a seconda disposizione proprio che hanno che hanno in zona sa che tipo di lavori dovranno essere eseguiti a Fano? allora devono effettuare la sostituzione del trasformatore devono lanciare anche una nuova fornitura collettivo Alba non so chi è in questi casi non c'è modo di fare un reclamo per poter spostare il giorno in qualche modo non è possibile? potete provarci però direttamente o andando direttamente all'unità di zona o facendo un fax all'azienda e torniamo ad occuparci dell'aggressione avvenuta ai danni di un ristoratore del Lido su questa vicenda si è espressa anche l'assessore alle politiche giovanili Caterina Delbianco sentiamo tante le persone che in questi giorni hanno dimostrato ed espresso solidarietà nei confronti del ristoratore aggredito sabato notte a Lido di Fano c'è chi chiede maggiori controlli chi si domanda che cosa facciano le famiglie e chi come sindaco Massimo Seri riafferma tolleranza zero nei confronti di vandali e violenti dopo aver sentito ieri il parere di una psicologa e le richieste dei residenti del quartiere oggi abbiamo intervistato l'assessore alle politiche giovanili del comune di Fano Caterina Delbianco ha avuto modo di confrontarsi con gli abitanti di Via dello Squero strada in cui furti imbrattamenti e atti di vandalismo pare che siano all'ordine del giorno eravamo già a conoscenza della situazione perché ci sono alcuni residenti che hanno anche la seconda casa vengono a Fano insomma per un momento di vacanza e di riposo ma in realtà i ragazzi che frequentano quella via dello Squero hanno una panchina in fondo e creano aggregazione insomma stando lì e poi la mattina dopo si vede cosa fanno ci sono bottiglie di tavernello bottiglie di super alcolici quindi è anche abbastanza spiacevole la situazione certo che quando ci hanno chiesto come comune di portare via una panchina tu ti chiedi e fai delle riflessioni su come i ragazzi il giorno d'oggi fanno aggregazione tra di loro quello che mi sento di dire come assessorato alle politiche giovanili è che come comune anche quando si crede che lo sport o l'aggregazione giovanile siano dei settori secondari in realtà è una cosa primaria perché la generazione magari mia che ha dieci anni in più di questi ragazzi o di altri ragazzi trentenni quarantenni ha avuto l'opportunità di avere delle strutture istituzionali che funzionavano se fai aggregazione con un gruppo sportivo con un gruppo musicale con amici che hanno la stessa passione trovi il modo di riempire le giornate io credo che qui ci sia un disagio sociale perché questi ragazzi non hanno altre forme di svago e rimaniamo su questo episodio di cronaca perché Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in merito a questa aggressione chiede all'amministrazione comunale una presa di posizione forte per evitare che si ripetano atti di cronaca come quello accaduto sabato scorso secondo Angelo Bertoglio portavoce provinciale c'è un'alta percentuale di giovani che non conoscono il rispetto l'educazione civica verso il prossimo Bertoglio chiede al sindaco Seri di istituire una consulta urbana della sicurezza formata dal sindaco dal comandante della polizia locale dai rappresentanti delle categorie dai rappresentanti delle associazioni di quartiere per poter avere una totale realtà della situazione del territorio e per ascoltare e costruire insieme una cabina di regia in difesa dei fanesi inoltre lancia anche un appello a Massimo Seri e a tutte le persone associazioni partiti e istituzioni di Fano a ritrovarsi sabato sera alle ore 22 senza bandiere di alcun genere al Lido per portare solidarietà al ristoratore aggredito e dare una sana dimostrazione che è possibile riprendersi il Lido isolando i violenti e la regione nell'emergenza ha lasciato i comuni in braghe di tela adesso pur di salvare la stagione turistica dobbiamo pensarci noi in una corsa contro il tempo ad affermare questo è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che annuncia in giunta abbiamo deciso di stanziare 100.000 euro per i risarcimenti altrimenti gli stabilimenti balneari non aprono ieri il governatore Gian Mario Spacca aveva annunciato contributi a fondo perduto fino a un massimo di 8.000 euro alle imprese balneari danneggiate dal maltempo secondo l'assessore Andrea Biancani il comune di Pesaro però non è stato minimamente coinvolto torniamo a Fano e alla corte malatestiana che non ospiterà più gli spettacoli e sarà restituita alla sua antica funzione di giardino lo aveva annunciato venerdì scorso l'assessore alla cultura Stefano Marchegiani dopo che gli operatori avevano smantellato la platea di sedie e palco per eseguire lavori di pulitura la nuova location per eventi e spettacoli sarà invece il cortile interno del complesso Sant'Arcangelo che potrà contenere 483 sedute a differenza dei 600 posti della corte a non essere d'accordo con la decisione presa l'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi che la ritiene il cuore pulsante delle attività artistiche musicali estive e la considera un punto di riferimento storico culturale della città di Fano Aguzzi invita il sindaco Massimo Seri e la sua giunta a rivedere tale scelta domani 200 bambini all'anfiteatro Rastad festeggeranno la giornata mondiale della terra è il giorno in cui in oltre 170 paesi si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta per sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali è un'occasione quindi per valutare le problematiche della terra come l'inquinamento di aria acqua e suolo la distruzione degli ecosistemi le migliaia di piante specie animali che scompaiono e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili con questi obiettivi mercoledì 22 aprile gli alunni di alcune scuole primarie fanesi la celebreranno con Avis Fano e l'associazione Teatro Linguaggi l'iniziativa è promossa dal Cremi dei servizi educativi del comune di Fano nell'ambito dei laboratori di animazione interculturale domani alle 17 all'anfiteatro Rastad cinque classi delle scuole primarie di Fano si incontrano per ricordare a tutti gli abitanti che comunque il 22 aprile si ricorda la giornata mondiale della terra è dal 1970 che le Nazioni Unite hanno proprio indetto questa giornata e con i bambini chiaramente abbiamo parlato abbiamo discusso e porteranno i loro pensieri le loro parole il loro sentimento hanno capito perfettamente lo scopo della giornata anche l'avis sarà presente sì l'avis è presente per due ragioni ben specifiche una collegata all'espo nutriamo la vita e quindi con la giornata mondiale e l'altra perché da quest'anno abbiamo iniziato anche le iniziative con le scuole elementari non mancheranno i palloncini no i mitici palloncini che porteranno in cielo tutti i pensieri e i sogni dei bambini i palloncini dell'avis ormai sono un vero e proprio must quarto giorno in Bosnia per il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascherin che hanno accompagnato a Mostar Sarajevo e Sebrenica circa 60 alunni e docenti del liceo Nolfi e del liceo artistico a Polloni ieri fanno sapere è stato costruito un ponte tra Sarajevo e Fano che non è fatto di cemento ma di reciproca conoscenza e collaborazione e questo il senso della loro visita a due importanti simboli della città bosniaca tra questi la Biblioteca Nazionale con la quale hanno deciso di sottoscrivere a breve un protocollo d'intesa con il nostro sistema bibliotecario un incontro significativo ha detto Mascherin non solo in termini di memoria storica ma anche per sottolineare il valore dell'istituzione come strumento di riscatto e ricostruzione e siamo alla pagina dedicata agli eventi una nuova umanità al lavoro esperienze in atto è il titolo dell'incontro che si terrà mercoledì 22 aprile a Reore 18 nell'aula magna dell'istituto Maestre Pie Venerini in via Montevecchio a Fano si tratta di un appuntamento che ha l'obiettivo di riunire tutte le persone le organizzazioni e i movimenti di ispirazione cristiana a riflettere sulle problematiche del lavoro dell'impresa e dell'economia in generale alla luce dei principi della dottrina sociale della chiesa presiderà l'incontro il vescovo Armando Trasarti sono state presentate a Fano tre rassegne cinematografiche e ce n'è per tutti i gusti e anche per tutti i costi vediamo cazzo riderà sui baffi perché era era una vecchia battuta di drive-in che tu non sai neanche che cos'è tutti i prezzi e tutti i gusti a ogni gosto io drive-in l'ho visto in tutte le puntate sei vecchio come me allora prezzi per tutti i gusti e per tutti i gosti te ti giri di qua di qua lo devo fare la chiusura il derby lo dovrai fare ma si ma di qua lo devo fare questo qua poi ti girerai è la peggio quindi dopo mi giro di qua brava brava tua sorella brava devo dire che a seguire sembrerà una puntata di dopo cena dove io ci sono strano mi posso annunciare mi annuncio da solo siamo alla pagina dello sport cresce l'attesa per il derby di calcio tra l'Alma Juventus Fano e la Vis Pesaro ma in attesa della partita che si disputerà domenica prossima giovedì 23 aprile alle ore 19 e 30 alla pasticceria Guerrino in via Togliatti ci sarà un aperitivo cena al prezzo di 10 euro insieme ai Granata tutti insieme calciatori staff tecnico e tifosi per compattare ancora di più l'ambiente e la squadra ebbene questa era l'ultima notizia a seguire dopo il telegiornale andrà in onda una puntata di dopo cena dove protagonisti saranno gli alunni dell'istituto Olivetti e quindi noi ci salutiamo qui grazie per la vostra cortese attenzione noi torneremo qui naturalmente se vorrete puntuali domani sera alle 20 e 30 per un'altra edizione di Occhio alla Notizia buonasera l'attore Paolo Cevoli sarà al Politeama giovedì prossimo per presentare il film sul dato semplice che darà il via alla rassegna cinematografica Cinefanum presentata insieme a quella denominata Cattedrali della Cultura prevista invece al Malatesta promossa dall'assessorato alla cultura in collaborazione con la società che gestisce i due cinema comprendono proiezioni di grande pregio con film d'arte ed autore a prezzi popolari che vanno dai 6 agli 8 euro sono una parte film che riguardano l'arte l'arte quella più conosciuta ma anche uno sguardo alla modernità con il ciclo del martedì che danno molte informazioni su monumenti noti agli addetti ai lavori ma non noti alla maggior parte delle persone e poi l'altra rassegna di film con impronta sul sociale molti temi che incontrano le più vaste sensibilità dalla condizione della donna dei minori dal senso dell'abbandono dall'abbandono anche degli animali una cultura che deve cambiare perché gli animali di affezione entrano nella nostra vita e l'ultimo film che chiuderà questa rassegna è dedicato proprio a questo singolare aspetto che è sempre più presente fortunatamente nelle preoccupazioni nostre un po' di tutti sono previste proiezioni uniche alle ore 21 e 15 per informazioni è possibile visitare il sito cinemafano.it oppure telefonare al numero 0721 18 35 218 dunque un taglio d'autore per queste rassegne ma ne lancerete anche una terza si partiremo da venerdì 8 maggio per 4 venerdì quindi tutti e 4 venerdì di maggio con una rassegna operistica opere liriche e balletti nell'ordine il primo film 8 maggio sarà gratuito e daremo la bohème a seguire il Bolshoi con Ivan il Terribile poi Tosca e a chiudere il Rigoletto di Mantua con la regia di Marco Bellocchio oltre alla rassegna sotto le selle a settembre che cosa è previsto? a settembre prevediamo di partire con una rassegna diciamo live dai maggiori teatri del mondo per un giorno da concordare che sarà presumibilmente martedì al Cinema Politea ma con un calendario insomma un palinsesto annuale appunto da settembre fino a maggio siamo alla pagina dello sport cresce l'attesa per il derby di calcio tra l'Alma Juventus Fano e la Vis Pesaro ma in attesa della partita che si disputerà domenica prossima giovedì 23 aprile alle ore 19 e 30 alla pasticceria Guerrino in via Togliatti ci sarà un aperitivo cena al prezzo di 10 euro insieme ai Granata tutti insieme calciatori staff tecnico e tifosi per compattare ancora di più l'ambiente e la squadra ebbene questa era l'ultima notizia a seguire dopo il telegiornale andrà in onda una puntata di dopo cena dove protagonisti saranno gli alunni dell'istituto Olivetti e quindi noi ci salutiamo qui grazie per la vostra cortese attenzione noi torneremo qui naturalmente se vorrete puntuali domani sera alle 20 e 30 per un'altra edizione di Occhio alla Notizia buonasera grazie a tutti